Brett Kavanaugh A proposito di Brett Kavanaugh, non sto dicendo niente su nessun altro, ma voglio dirvi che lui è una delle migliori persone che voi avrete il privilegio di conoscere e incontrare. Così Donald Trump è tornato a difendere durante un evento, il giudice scelto da lui per la Corte Suprema è accusato dalla ricercatrice Christine Blasey Ford di aver tentato di stuprarla quando entrambi erano adolescenti. È una grande mente, un grande gentiluomo con un'impeccabile reputazione, è stato a Yale un ottimo studente, noi dobbiamo lasciare andare le cose come vanno, ma lui è un'ottima, ottima persona, ha aggiunto cercando di frenare le polemiche che lo stanno investendo. a fine, fine person.